Cara gente, buonasera, buonasera e benvenuti in questa nuova live Parto subito scogliendo Fabius Bail Mi dispiace ovviamente che i problemi recenti ti abbiano un po' demotivato Ma spero che, io adesso non so, non ho seguito notizie recenti Ma spero sia almeno migliorato, non dico risolto Anche se lo spero ovviamente, ma spero sia almeno migliorato E buonasera anche a te ma Allora, allora Domandina per le live Domandine Fate questa legenda del codex delle sorelle E ti chiede Allora, il modello di armatura potenziata che usano, da dove esce fuori? So che l'elemento è il modello sabbat, ma non so altro Oddio, non mi pare sia mai stato precisato con estrema appunto precisione Come gli Space Marine Perché non... Posso ricontrollare, ma adesso a memoria non mi pare che abbiano mai fatto tali precisazioni Un po' come le specifiche tecniche che di solito fanno per l'armatura e potenziate marine O per alcuni veicoli Non credo l'abbiano mai fatte Sì, l'elmo già magari lo capisco di più Perché essendocene di vario tipo Può essere stata la specifica interessante Però rispetto all'intera armatura Non credo abbiano mai precisato Mentre Si sa cosa si dissero all'imperatore delle sorelle originali della sala del trono? Grazie Ed è brutto rispondere anche in maniera diciamo negativa anche questa domanda Perché no, non si sa purtroppo Ed è uno dei vari motivi per cui sarebbe magari interessante In futuro avere dei romanzi che vadano ad approfondire proprio la... L'era dell'apostasia Proprio perché sarebbe davvero una scena interessante da vedere Nello svolgimento e nelle parole Perché È una scena che sicuramente avrebbe bisogno di un svolgimento particolare Dato che Se uno ha letto Dark Imperium O ha letto anche The Emperor's Legion Diciamo che entrare nella sala del trono d'oro Non è proprio una cosa del Oh sì Hai udienza con l'imperatore Vagli incomodamente davanti No Non si può Dato che le armature dei Custodes si anneriscono A causa della potenza emanata Dell'energia emanata dal trono d'oro Quindi Immagino che una sposa dell'imperatore di quei tempi O comunque le varie spose dell'imperatore di quei tempi Andate davanti all'imperatore Non siano andate con totale comodità Apriamo le porte e andiamo Credo che sia successo qualcosa Anche solo l'imperatore potrebbe aver Potrebbe aver magari tirato fuori Una Sua energia per magari proteggerle temporaneamente O magari è stato usato qualche dispositivo di protezione Magari È possibile Quindi sarebbe molto interessante vederne lo svolgimento E le parole Anche questo Le parole si intersecano un po' con lo svolgimento Perché Se davvero l'imperatore ha parlato a queste sorelle Perché comunque È pur sempre un evento avvolto nelle leggende Potremmo scoprire una verità diversa O comunque Un po' cambiata E Qualunque sia appunto la verità Anche lì L'imperatore non è che proprio comunica Avviando un discorso tranquillo Con chi lo visita Si parla pur sempre di Letteralmente Anche lì Energia buttata fuori Sotto forma di comunicazione E quindi non è esattamente semplice Non è che Non è proprio capace di fare discorsi motivazionali L'imperatore in questo momento Né adesso Né 4.000 anni prima Durante l'era dell'apostasia Quindi Sarebbe appunto bello vedere tutto ciò Quindi chissà Ho detto È uno dei motivi per cui Spero Anzi uno dei maggiori sicuramente Vedere quella scena Hai rivelato qual era il tuo lavoro misterioso? Allora Allora Sì L'ho rivelato sul mio profilo privato Perché Ho aggiunto il lavoro Ho aggiunto al mio profilo Il nuovo lavoro E ovviamente La notizia Si è un po' Per forza sparsa Perché nella mia lista Di amicizie Facebook Chiaramente Non ci sono solo Le mie amicizie personali Pressoché Tipo Penso 8 amicizie su 10 Forse pure 9 10 Del mio profilo privato Di Facebook Sono persone Che mi seguono O comunque persone Che magari Adesso sono amiche Ma mi hanno conosciuto Seguendomi Quindi La notizia Si è un po' Sparsa Quindi te lo posso dire Ma non dirò Cioè Parlerò poi Dei programmi Cambiamenti E cose Ma sì Il mio La rivelazione È che Collaboro con Alla Nera Ho avviato una collaborazione Con Alla Nera E Sono attualmente Stato preso Come Revisore Dei romanzi Io Il lavoro Che avevo dovuto fare Era una revisione Di prova Ho fatto una Una revisione Di prova Di un romanzo E Io l'ho ovviamente Successivamente L'ho inviata È stata valutata È stata valutata Positivamente E quindi Quando Io Ho messo letteralmente La firma Sull'accordo Allora Poco dopo Ho Aggiornato Il mio Il mio profilo Ok E Vedremo Comunque contate Che non sono l'unico Revisore Ovviamente Poi io vi parlerò Delle pubblicazioni Che rivedrò io In generale L'argomento Ne parleremo Ma Tutto a tempo Debito Appena Ci saranno novità Sul Sul prossimo romanzo In uscita Ve ne parlerò Ovviamente Io vi dico subito Non Non fatemi magari Domande Tipo Qual è il prossimo romanzo Che esce O Cose magari Sulla schedule Dei prossimi romanzi Non solo perché In ogni caso Non potrei dirvelo Ma perché Non lo so Non è Non è affar mio Entrare a far parte Della Cioè Collaborare con Alanera Come revisore O comunque Qualsiasi magari Possa essere il mio ruolo Non vuol dire Che Ah Adesso Pappa e ciccia E ci diciamo Tutti i programmi E tutto Tutto Quel che facciamo No Io ho un ruolo Mi viene detto Quello che mi serve Quindi Non Purtroppo Non potrò Avvisarvi Tipo Sì sì Il prossimo romanzo È questo qua Oppure sto Rivedendo Questa cosa qui Assolutamente no Per punto Sì Non lo so E anche lo sapessi Comunque non potrei Se vi serve un pittoteschio Mi sono disponibile E guarda Sarebbe Sarebbe figo Però Per sumo Tutte le copertine Teoricamente Sono quelle originali Blink Library Quindi Non credo Vengano prodotte Copertine particolari Non so Magari per le edizioni Limitate Però per le edizioni Limitate Mi pareva Avessero Avessero Delle persone Da contattare Che ho sentito E quindi E quindi Vi farò sapere Ovviamente Sì 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 Appena Appena ci sarà New news Io vi farò sapere Ha uno schiavo Cenobita In generale Qualsiasi schiavo Di qualche tipo Va bene Va bene Qualche Per farti svolgere Qualche compito In qualche modo Va bene Può fare Però sì Veramente Appena avrò modo Avrò possibilità Parleremo meglio Di Quello che sarà Il prossimo romanzo Di quello che sarà In generale Il mio lavoro E Ve ne parlerò Ve ne parlerò Assolutamente E è di per sé Un lavoro Che apporterà Anche qualche piccolo Cambiamento Alla mia programmazione Tra cui questa Ovvero i video Momenti review in live E Or bene Or dunque Direi che quindi Possiamo Possiamo iniziare A meno che non abbiate Ulteriori domande Comunque Nel corso Della Della live Le domande Si può fare Anche magari A proposito Dell'argomento Qui trattato E Per cosa siamo appunto Qua oggi Noi siamo qua oggi Per parlare Di zona di guerra Octarius Parte 1 Marea crescente Questo E' il primo manuale Facciamo un'introduzione Giusto per Proprio per introdurre Un po' di cosa Stiamo parlando Anche a chi magari Nuovo all'argomento E ha sentito Davvero poco Su tutto ciò Che cos'è questo? E' il primo manuale Di appunto Zona di guerra Octarius Manuale che quindi Vuole andare A riprendere E ad approfondire Un conflitto Molto famoso Dell'ambientazione Di Warhammer 40.000 Da dove arriva Questo conflitto Effettivamente Devo subito Dare Una piccola nota Di merito Al manuale Perché Nella sua introduzione Proprio nella sua Primissima pagina Fa questa cosa Ovvero Ci introduce A che cos'è stato Finora il conflitto Ovvio Sono varie Le pubblicazioni In cui questo conflitto E' stato trattato Ma la sua origine La sua nascita E' qualcosa Che comunque Oltre ad essere stato Discusso Da tante parti E' comunque qualcosa Che non necessariamente Un lettore Che prende Questo manuale Conosce Magari una persona Ha proprio iniziato Con questa edizione E quindi Il manuale Ci fornisce Una piccola Linea Generale Per capire Da dove è nato Dove è nata La guerra di Octarius Questa guerra E' una guerra Nata Un po' Artificialmente Ossia E' nata Dal tentativo Dell'inquisitore Fidus Criptman Di Uccidere Gli orchi Tirani Di o comunque Gran parte Di essi Mettendoli contro Tra di loro Lui a tutti gli effetti Aveva Preso Una nidiata Di genera Raptor Controllata E l'aveva Inserita Nella zona Di Octarius In Che in quel momento Era particolarmente Dominata Dagli Orchi Che appunto Avevano L'impero Orchesco Di Octarius Dopo aver Messo Un'esca Lui fece Un'altra cosa Ossia Fece Piazza Pulita Di interi mondi Lui fece Si Che I tiranidi Fossero Più o meno Guidati Lui cercò Non solo Di attirarli Con un'esca Che appunto Segnalava La propria presenza La presenza Di dio Massa Ma Fece si Che i tiranidi Subissero Una certa Più o meno Carestia Lui letteralmente Agnientò Sottopose A Exterminatus Vari mondi Uccidendo Una marea di gente Nel senso Non è che questi Pianeti Li evacuò Con tanta cura Li ammazzò Li eliminò Totalmente Senza Minimo Riguardo Ciò A tutti gli effetti Riuscì ad attirare I tiranidi Verso il luogo In cui Critman Voleva appunto Che si Si presentassero A tutti gli effetti Orchi e i tiranidi Iniziarono A combattere Tra di loro Tra gli tiranidi Della flotta Alveare Leviathan E gli orchi Dell'impero Di Octarius Tuttavia però Critman Venne Radiato Radiato Dall'albo Degli inquisitori Perché il suo comportamento Per quanto Per quanto Ci siano inquisitori Che comunque Fanno Exterminatus A volte Non proprio Esattamente Giustificati Crippan Aveva Davvero Esagerato Davvero esagerato Aveva letteralmente Ammazzato Interi mondi Che non avevano Veramente Motivo Per essere Sottoposto Exterminatus E quindi Lui venne Esiliato Venne esiliato E bom Nel senso Sparì Ogni tanto Fa qualche Apparizione Fa fatto Qualche apparizione Ma bene o male Lui era Era stato Esiliato Lui comunque Se ne sbatte le palle E fa comunque L'inquisitore Come al solito E sfrutta un po' La sua fama E il suo status Per avere ancora Autorità Il libro appunto Parte Facendoci appunto Una piccola introduzione Di questo conflitto Citando appunto Il fatto che Gritman Avesse attirato I tirani In questo modo Il suo esilio E il fatto che Appunto Questo conflitto Sia nato Ma Ci precisa anche Sì Il conflitto è nato Ma non è esattamente Andata come Gritman voleva Perché Giorchi e i tirani Di certo Sono rimasti Abbastanza occupati In questo conflitto Ma allo stesso tempo Si sono anche Rafforzati Non si sono eliminati Tra di loro Bensì Si sono rafforzati A questo conflitto Nel corso degli anni Nel corso di anni Di pubblicazioni Che man mano Hanno giunto Qualche pezzo lì Qualche pezzo là Abbiamo avuto Vari sviluppi Con la presenza Di ulteriori forze Questo perché Dopo la nascita Del conflitto Soprattutto vedendo Che Orchie e i tirani Non si uccidevano Tra di loro Non si ammazzavano Una volta per tutte Ebbene Varie forze Hanno cercato Di intervenire Di intervenire E fare La loro parte Per magari Cercare di sedare Determinati Determinati Conflitti Presenti All'interno Di quello spazio Perché comunque Rimaneva uno spazio Imperiale ragazzi Per quanto ci fosse L'impero di Octarius E i tirani Di arrivati Dall'esterno Rimaneva comunque Uno spazio imperiale Che l'imperium Voleva riavere Infatti Anche lì Nel corso degli anni Ci sono stati citati Vari capitoli Di Space Marine Reggimenti Di Astra Militarum Che hanno partecipato A questi A queste A queste battaglie Tra di essi Non ci sono Non c'è solo L'imperium In realtà Ma ci sono Anche stati Gli Eldar Anche gli Eldar Hanno partecipato A qualche conflitto E l'arcamondo Sicuramente Di maggior spicco In questo conflitto È stato Saiman Non solo Ma Saiman È stato sempre Quello un po' più Di punta Nella guerra Di Octarius Esattamente Gli orchi Hanno sicuramente Richiamato Altri Pelle Verde Alla Rissa E i tirani L'hanno banchettato Con Biomassa Verde Letteralmente È stato proprio Un continuo Flusso Di forze Da una parte Verdi Da una parte Bianca e Viola E nel frattempo Imperiali E Eldar Che cercavano Di dire La loro Ehm Quindi diciamo Che partiamo Da Ehm Sì Anche Allora C'è anche Bayeltan C'è anche Bayeltan Però Saiman In questo Conflitto Preciso È stato un po' Più presente E Siamo Ben Arriviamo Più o meno A questa situazione Noi iniziamo Questo manuale Con questa situazione Ed è appunto Interessante A me ha fatto piacere Che GV Abbia voluto Riprendere Proprio Questo conflitto E Anche perché Durante L'ottava edizione C'era stato Qualche Piccolo Sviluppo Nel senso Qualcosina Era stato detto In più Sulla guerra Di Octarius Quindi mi fa piacere Che con la non edizione Abbiano deciso Proprio Di ritornare Lì Che cosa Ci racconta Però Questo Questo manuale Innanzitutto Noi partiamo Da Uno sviluppo Inquisitoriale Non stiamo parlando Di Critman Anche se Comunque Dovremmo Parlare Di lui Questa Questa sera Questa live Il primo sviluppo Inquisitoriale Riguarda Un inquisitore Di nome Nashir Sahansun Nashir Sahansun È un personaggio Completamente Nuovo È stato Introdotto All'interno Del White Dwarf 466 Di qualche Mese fa Attualmente Siamo al 469 Nel White Dwarf 466 Nelle Classiche Rubriche Del Flashpoint Di White Dwarf La redazione Ha creato Il primo Articolo Dedicato Proprio Alla guerra Di Octarius Che ha voluto Iniziare A raccontarci Esattamente Nashir Sahansun Come inquisitore Che ha creato Il cordone Impenetra In più Quell'articolo Andava ad approfondirci Uno scontro Tra il capitolo Dei Dark Krakens Successori Della fondazione Ultima Delle salamandre E Dei tiranidi Che erano In una zona Part Che diciamo Che era molto comoda Per Forme Tirani Di Subacue Infatti Era stato Interessante Vedere Un conflitto Tra I Dark Kraken Che hanno Appunto Molta affinità Con creature Subacue Provenienti Dal loro Pianeta Capitolare E tiranidi Che appunto Si erano Abituati Alle Forme Sottomarine In quell'articolo Ci veniva Appunto Introdotto Questo inquisitore Con il cordone Impenetra E ci veniva Detto Che cosa Fosse Questo cordone Impenetra Cosa che ci viene Chiarita anche meglio Proprio all'inizio Del manuale Il cordone Impenetra È una nuova Operazione Inquisitoriale Che vuole Tentare Di risolvere Un po' La situazione Di Octarius Dato che L'operato Di un altro Inquisitore Alla fine È creato Il problema Lui Cerca un po' Di risolverlo Il cordone Impenetra È fondamentalmente Una Cerchia Un cerchio Di sottosettori Che Delimitano Un'area Morta Dichiarata Perduta Tutti i pianeti All'interno Di questa zona Vengono dichiarati Ormai Da Abbandonare Ma attenzione Siccome Lo spostamento Magari Di Un'enorme Quantità Di biomassa Magari Renderebbe Poco interessante La preda Per i Per i Tirani Di che Magari Comunque Si vedono I pelle Verde Ma ci sono Anche tanti Umani Da mangiare Nasir Sansun Non decide Di spostare Ed evacuare Tutti questi Pianeti Lui fa evacuare Solo Il personale Magari Importante Varie Forze Militari Che potrebbero Essere utili Altrove Mentre La maggior parte Dei civili Rimane Dove Rimane Dove Si trova Solo Alcuni Ufficiali Alcune Alcune Figure Di spicco Rimangono In questi Territori Ma Non Perché Nasir Sansun Lo decida Ma perché Sono figure Che magari Per questione Di onore O per motivi Personali Decidono Di rimanere In questo Spazio Tutti I mondi Che fanno Parte Del cordone Impenetra Sono invece Mondi Guardiani Mentre tutto L'interno È dichiarato Perduto Tranne Un mondo Forgia Un singolo Mondo Forgia Sigma Ulstri Anche se ora Ricontrollo Il nome Perché magari Lo dico male Ulstari Perdonatemi Sono Mero Dimenticato Una A Sigma Ulstari È Un mondo Forgia Che viene Mantenuto Nella Mantenuto Operativo Sebbene Rientri Nella Nella zona Generalmente Dichiarata Perduta In quale parte Della galassia Siamo E Siamo Nel Eh Come te lo Come te lo Come te lo Descrivo Immagini Centro Della galassia Noi Octarius È più o meno Qui E Non Non pensarlo Al contrario Ho disposto Le mie mani In modo da In modo che sia Corretto rispetto a Quanto stai vedendo Tu Centro della galassia Più o meno Qua Immagina che Invece la terra E marte Siano più o meno Qui Octarius È più o meno Qua Siamo nel Sì in basso Esattamente Siamo Non siamo Troppo a destra Siamo più o meno Nella colonna Centrale Della galassia Rispetto appunto Al centro Ma Verso il basso Assolutamente Quella è più o meno La zona di La zona di Octarius E Dicevo appunto Tutti i mondi Che invece Fanno parte Del cordone Ventano mondi Guardiani Mondi che vengono Pesantemente Interi sottosettori Con i vari Sistemi Con vari pianeti Tutti Tutti loro A meno che Non debbano svolgere Ulteriori funzioni Differenti Diventano Mondi Guardiani Che vengono Pesantemente Pesantemente Fortificati Affinché Possano Svolgere le proprie Funzioni Di difesa Quando Inevitabilmente Gli orchi E i tiranidi Attaccheranno Che a un certo punto Comunque vorranno Togliersi Da questa zona Vorranno spostarsi Vorranno attaccare Altri territori E quindi Loro devono cercare Di difendere E contenere L'operazione Un po' Come comunque Anche La Quella Del Di Critman Riceve Un certo Dissenso Nashir Sansun Ci viene descritto Come un personaggio Molto Aggressivo Nelle proprie azioni Un personaggio Che tra l'altro In questo momento storico È già abbastanza vecchio Che già sta ricorrendo A un bel po' Di trattamenti Di ringiovamento Ringiovamento Questo perché Ci viene anche detta Una cosa Interessantina Ovvero Lui È un sopravvissuto All'invasione Degli Brood Di Cincare Questa Invasione È Un È un evento Che veniva citato Nel Imperial Armor Volume 2 E Nel Code Sguardi Di terza edizione Mi sono preso Gli appunti Ragazzi Ovviamente Per far gestire Tutto al meglio Quindi stiamo parlando Di un evento Che comunque risale A Terza edizione Ed intorni È un Imperial Armor E questo evento Risale All'844 Millennio 41 E questo già Mi dice una piccola cosa Mi fa piacere Che abbiano recuperato Un evento Così Lontano Nel passato Per quanto riguarda L'ottica Di vari eventi Nel senso Tanti eventi Magari non vanno Troppo nel passato Anche solo per nominare Piccole cose E invece qua Ho subito visto Un Cose Vecchie E tra l'altro Cose che Appaiono anche Nell'Imperial Armor Che di solito Forgeward Per quanto conti Tutto Tutto esista Tutto sia avvenuto Di solito L'Imperial Armor I libri Forgeward Stanno un po' Più o meno Nella loro bolla In cui poche cose Vengono ricitate Altrove E invece Qua Abbiamo subito Un'eccezione E E questo ovviamente Ci dice anche Che Nasir Sansun Ha appunto I suoi anni Lui era Un inquisitore Che era Sopravvissuto A quell'invasione Se già Nell'844 Lui era Un inquisitore Attivo Vuol dire Che comunque I suoi anni Ce li ha Mettete caso Che avesse 40-50 anni Durante Quell'invasione Ne sono passati Quasi altri 200 Direi Che i suoi annettini Li possiede E Era un sopravvissuto Di questa Invasione Poi Nella sua descrizione Ci vengono citate Anche alcune Pubblicazioni Che lui Aveva Aveva scritto E diffuso Ci viene detto Anche proprio Questo dissenso Da parte Di altri inquisitori Ma un dissenso Che bene o male Non era ovviamente Terribile Quanto quello Di Grittman Grittman Aveva tutti gli effetti Causato la morte Di un numero In numero In quantità Innumerevoli Di persone Lui Sicuramente Ne aveva condannate Non le aveva ancora Uccise Ma bene o male Ne aveva condannate Tante Ma di per sé Era un'operazione Di emergenza Che aveva Un bel po' Di dissenso Ma comunque Non tale Da Da anche lì Esiliarlo O arrabbiarsi Così tanto Lui comunque Quindi riesce A Creare La propria operazione Inoltre Cerca anche Un modo Di comunicare Efficacemente Tra i Tra i mondi Tra i vari Sottosettori Del cordone Siccome Ci si trova In una situazione Terribile Perché siamo Chiaramente In una situazione Post grande Fenditura In cui ovviamente Le comunicazioni Sono già difficili Di per sé Ma oltre a questo Siamo in una zona In cui C'è Costantemente Un problema Creato dall'ombra Nel warp Che anche se non è Esattamente lì presente E comunque lì vicina Quindi anche se i tiranni Non sono proprio lì Ad attaccare Sono nei dintorni E l'ombra nel warp Problemi ne crea Oltre a questo Non mancano i problemi Creati anche Dalle energie Wag Che Figuratevi Quanto sono presenti Anche loro Tra tutto questo Tra queste tre Problematiche Enormi Già da sole Figuriamoci insieme Samsung Cerca di creare Un po' Una scappatoia Per cercare di Effettuare comunicazioni Efficaci Tra tutti i mondi Tra tutti i sottosettori Del cordone Anche Quando magari Devono comunicare Dei sottosettori Da una parte E dall'altra Sì Ci sono anche Alcuni Necron Da qualche parte Sì 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 Domanda corretta Perché sì C'è anche Una certa presenza Necron Da qualche parte Però appunto Dico Tra tutti questi problemi Per comunicare Tra magari Sottosettori Che fanno parte Di un Dancapo All'altro Non possono andare Diciamo In linea d'aria Ma devono optare Per una comunicazione Nodo per nodo Ovvero Comunicare Sottosettore Per sottosettore Finché letteralmente Non si percorre il cerchio È qualcosa di molto rischioso Lo descrive appunto È qualcosa che Non è difficile Da mettere in atto Sansun Cerca anche Di radunare Un maggior numero Di astropati Per poter Comunicare meglio Purtroppo però Ci viene anche detto Che non ci riesce Perché gli astropati Sono qualcosa di Estremamente richiesto In questo periodo storico Perché Già è difficile Comunicare E Quindi Avere meno astropati È un ulteriore problema E si cerca Di averne di più Lui proprio Cercando di averne di più Tanti gli dicono No guarda ci servono Lui cerca Ma purtroppo Non ci riesce Deve comunicare Con quello che ha Situazione difficile Molto difficile E infatti Il cordone Cerca subito Di fare Quel che può Quando viene attaccato La situazione Non è assolutamente Delle migliori La prima parte Del libro Ragazzi È fondamentalmente Una parte Che vuole Descriverci Un po' I conflitti I conflitti In atto È una parte Abbastanza simile A quello Che è L'inizio Del Del manuale Della prima parte Di zona di guerra Chardon Ossia Una Descrizione Dei vari Sottosettori Che vengono presi Maggiormente In esame Questo manuale Che sono Diciamo I protagonisti Tanto quanto I personaggi Ci vengono Descritti Magari Un po' Come sono Come sono Strutturati Infatti Ci viene anche Fornita Una mappa Del sottosettore Pancallis Che ci mostra La disposizione Dei Sistemi Dei pianeti Al loro interno E anche Di varie forze Che si stanno Distribuendo Per combattere E Ostacolarsi A vicenda Interessantina Nelle descrizioni Nel senso Ci viene Data un po' Una rapida Occhiata Di come Si comportano Come si sono Organizzati Per difendersi E per il resto Diciamo che Questa parte È Una narrazione Che sicuramente È più Improntata Per ispirare Magari qualche Battaglia Qualche partita Perché è Molto Reso conto Di guerra In cui Pianeta Dopo pianeta Viene Attaccato Ci viene Descritto Come Questi pianeti Rispondono Ci vengono Forniti Anche alcuni Nomi Magari Che possono Essere La scintilla Che fa scaturire L'idea Hobbistica A qualche Giocatore Che magari Crea il proprio Capoguerra Il proprio Big Mac Dandogli il nome Che magari Appare Durante Queste Pagine Stessa cosa Per alcuni Personaggi Imperiali E man mano In questa Prima parte Abbiamo Questa Occhiata Questa Visione Generale Di come Sta Iniziando Questa Nuova Parte Del conflitto La grossa Nuova Parte Del cordone Impenetra Il sottosettore Pancallis E quello Appunto Maggiormente Colpito E non a caso E questo Che Proprio Quello Appunto Di cui Ci viene Mostrata La mappa E Gli orchi E i tirandi Attaccano Bene o male Allo stesso Modo Questa Prima parte Appunto E Sicuramente Meno C'è meno Pathos E meno Emozionante Come Narrazione Puramente Perché Appunto Ci fornisce Una visione Generale Del conflitto Ma Ha i suoi Spunti Ha i suoi Spunti Innanzitutto Ho notato Altre Cosette Che vanno Proprio A collegarsi Con Altre Pubblicazioni Ovvero Quella cosa Per cui Dico Appunto E' bello Che abbiano Ripreso Questo conflitto Perché Vanno A riprendere Varie cose Non solo Del conflitto Che è stato Raccontato Precedentemente Ma vanno Proprio A recuperare Varie Piccole cose Apparse In pubblicazioni Più o Meno Recenti Una Di queste cose E' stata Ad esempio Il mondo Forgia Estaban Estaban Non so Magari Quale sia La pronuncia Nella mia Mente Io ho Sempre Detto Estaban Estaban E' un sistema Che ha appunto Vari Pianeti Che si chiamano Tutti Estaban Terzo Estaban Settimo Estaban Qualcos'altro Ed è letteralmente Un sistema Forgia Non è nemmeno Solo un mondo Forgia Uno di essi E' un intero Sistema Forgia E Questo sistema Forgia Veniva citato Nei primissimi Imperial Armor Anche lì Torniamo Sempre su Materiale Che faceva parte Dell'Imperial Armor E A un certo punto Voglio proprio Farevi un'osservazione Generale Su questa cosa Perché con questo Video Momento Review In Live Voglio anche fare Un'osservazione Su Ciò che Potrebbe essere Attualmente Il team Presente In GV Ma ne parliamo dopo E E stabane Appunto Un sistema Forgia Che partecipa Al conflitto Ci viene proprio Detto Questo sistema Invia le proprie Forze Per partecipare Attivamente Alla guerra Di Octarius Un'altra Forza presente E' quella Dei Jaguari D'Ossidiana Obsidian Jaguars Capitolo Che è apparso Per la prima volta In Risveglio Psichico Saga della Bestia E anche Nei racconti Nei racconti Che erano collegati Di Risveglio Psichico Saga della Bestia I racconti Erano tutti effetti Interessanti A scapito Purtroppo Della qualità Del supplemento In oggetto Le prime pagine Si dedicavano Un po' A questa questione Raccontata Nei racconti Purtroppo Poi il supplemento Abbandonava presto Questo argomento Gli Obsidian Jaguars Invece Sono un capitolo Che è stato Poi ripreso Dopo ripreso Combattendo Altrove Qui li abbiamo Rivisti Ed è stato Interessante Perché vedevamo Proprio questo capitolo Creduto Verso che Estinto Tornare alla ribalta Ma il loro destino Meglio Il loro recupero Ci viene descritto Più avanti Questo perché Voglio fare un piccolo salto Alla fine Della parte narrativa Di questo supplemento Perché Proprio lì La narrazione Si ferma Su certe pagine Che vogliono Descriverci alcuni capitoli Di Space Marine Tra cui Proprio i giaguardi Di Ossidiana Di cui adesso Ci vengono Forniti Lo schema di colore Il loro stemma Un po' Della loro araldica E E vari nomi E vari nomi Che Comunque forniscono Un po' Di Organizzazione Capitolare Dei giaguardi Di Ossidiana Oltre a questo Quella La pagina Dedicata a loro E' interessante Perché va proprio A riprendere Il fatto Che in risveglio Psichico Saga della bestia Sven Bloodhawl Avesse Letteralmente Demolito La loro fortezza Capitolare Affinché il loro Seme genetico Non venisse Rubato dagli orchi Per chissà quale Scopo Malsano E E ci viene Proprio descritto Che loro Tornarono A un certo punto Sul loro pianeta Perché non tutto Il capitolo Era lì presente Quando tornarono Purtroppo Trovarono Tutto distrutto E si dove Si dovessero Adattare Cercare Dover Cercarono Di sopravvivere In altro modo Ehm Buonasera Tra l'altro Leon Xander Va bene Va bene Sta procedendo bene Questo Review E sono assolutamente Molto Mesoamericani Infatti Mi è piaciuto Vedere i nomi Che sono Molto Molto Mesoamericani Come capitolo Sarebbe Poi Interessante Vedere Il loro Aspetto Senza Senza L'elmo Vorrei Vedere Un po' Come sono Mediamente Fatti Sarebbe Molto Carino Ehm Quindi appunto Ho apprezzato Ho fatto Questo Piccolo Salto Alla fine Della Narrazione Proprio Perché Mi è piaciuto Che abbiano Ripreso Il capitolo Proprio Continuando Esattamente Da quell'evento E andando a costruire Proprio Da quella Da dove C'eravamo Interrotti In quel punto Di risveglio Psichico Ehm E poi E poi Un'altra cosa Molto curiosa E La biopurga Di Octarius Nella mappa Del Sottosettore Pancallis O meglio Scusatemi Dell'intero Cordone Impenetra Perché c'è Comunque Anche la mappa Dell'intero Cordone Impenetra Sulla mappa Mi è piaciuto Vedere Proprio Un Una striscia Una striscia Di spazio Che viene Proprio Dichiarata Pericolosa Comunque Viene segnalata Comunque Come zona Perché Sottoposta A Una Distruzione Un annientamento Totale A causa Delle Doomsday Weapons Delle armi Apocalittiche Degli Eldar Questa cosa Non è una Robettina Giusto per Decorare La mappa Questa cosa È Un Una Precisazione Molto On point Molto particolare Perché va a riprendere Un evento Citato Nel codex Craftworlds Il codex Degli Arcamondi Uscito In ottava Edizione All'interno Di quel Manuale Veniva citata Proprio Questa Biopurga Degli Eldari Andavano Comunque Stavano Già Partecipando Alla Potenti E Devastare Intere Zone Possedute Da Orchi E Tirandi Buonasera Chi sta Arrivando Buonasera A tutti Buonasera A tutti Grazie mille Grazie mille E perciò Mi è piaciuto Vedere Questa Piccola Questa Piccola Chicca Sulla Mappa Perché appunto Aggiunge Ulteriormente A quelle cose Di cui Si tiene Conto Anche se Citate Una piccola Volta In un Solo Manuale Per quanto Vecchia o nuova Vecchia o nuova Sia la pubblicazione In cui quella Cosa Viene Descritta E Proseguendo Appunto Oltre La Prima Parte Arriviamo Verso La seconda Non ancora La seconda Verso La seconda Abbiamo Una cosa Che io Trovo Molto Intrigante E' una cosa Che in realtà Fa qualche C'è una piccola Ci sono piccole menzioni Anche prima Ma c'è un'intera Pagina Anzi pure due Che vanno A Fornire un Rapporto Su Eventi Che stanno Succedendo Nella Nella zona Di Guaroptarius Ma che sono Tutti Rapporti Inviati A Critman Critman Non appare In questo Manuale Ma E' sempre Una presenza Che ha Leggia Perché Questo Perché Nel corso Di tutta La narrazione Abbiamo Degli intermezzi Di un Servo Ignoto Perché si Firma Solo con Le proprie Iniziali J P Z Io ho fatto Anche Delle ricerche Per cercare Di capire Se potesse Essere Un personaggio Che magari Non era Semplicemente Nella mia Memoria Che magari Era apparso Già da Qualche Parte No A tutti Gli effetti È un personaggio Nuovo Se a tutti Gli effetti Ci verrà Rivelato Come un Verro e Personaggio E non Rimarrà Delle Semplici Iniziali Qualunque Sia il Caso Qualunque Sia il Futuro Per queste Iniziali Questo Questo Servo Di Critman Durante Tutta La Narrazione Fornisce Questi Rapporti Abbiamo Vari intermezzi Con Lui Che parla Di varie Situazioni Che si Stanno Verificando All'interno Della Della Zona Di Guerra E Critman Quanto Pare Sta Comunque Quindi Sorvegliando La Zona Di Guerra Anche Se La Sua Ultima Apparizione Risale Al Codex Tirani Di Ottava Edizione In cui Lui Andava Ad Aiutare Si Presentava In Una Fortezza Della Death Watch Per Fornire I Suoi Consigli Per Affrontare La Flotta La Piccola Flotta Alveare Tiamet Nel Frattempo Apparentemente Sta Tenendo D'occhio La Zona Di Guerra La Sta Tenendo D'occhio E Qualcuno Sta Appunto Inviando Dei Rapporti In Modo Che Lui Sappia Tutto Ciò Che Sta Accadendo In Un'altra Parte Tra L'altro Ci Viene Anche Nominata La Presenza Di Un Agente Quindi Non C'è Solo Questo Qua Questo JBZ Che Sta Inviando Rapporti Sta Accumulando Informazioni Ci Sono Evidentemente Vari Agenti Presenti Sul Campo Vengono Inviate A Critman E' Molto Intrigante Questa Cosa Perché JBZ Fornisce Varie Informazioni Interessanti E Nel Frattempo Critman Rimane Comunque Quel Personaggio Cui Non Molto Tempo Fa Abbiamo Visto Una Nuova Illustrazione Una Un'intera Parte Di Una Live Chiacchiere Era Stata Dedicata Proprio Al Presunto Possibile Ritorno Critman In azione In primo Piano Perché Questa Nuova Illustrazione Era Apparsa In un Articolo Che Faceva Un po' Un resoconto Sulla Sua Vita Però Sembrava Un po' Strano Che Un'intera Illustrazione Nuova Per il Personaggio Fosse Stata Commissionata Solo Per un Articolo Di Warhammer Community Che Bene o Male Verrà Visitato Un pochettino Ma Non so Quanto Valga La Spesa Di Un' Illustrazione Per un articoletto Warhammer Community Io appunto Avevo Ipotizzato Che Creepman Fosse Destinato A Ritornare In azione In questo Supplemento Non torna Eppure È lì Sorveglia Io posso Pensare Che I suoi Rapporti Conducano Magari A un Suo Ritorno Nella Seconda Parte È una Mia Ipotesi O Magari Non Torna Magari Nella Seconda Parte Continuano Ad Eserci Rapporti Inviati Per Far Di Sapere Determinate Informazioni Spero Che Comunque In Qualche Modo Lui Torni A Tutti Gli Effetti Esatto Grazie Grazie Fabio Per Aver Fornito Il link Gli Effetti Chissà Se Tornerà Ma Mi È Spezzare Con Rapporti Rapporti Informazioni Con Questo JBZ Che Dice Guarda Sta Succedendo Questa E Quest'altra Cosa Qua Tra Quest' Quest'altra Cosa Qua Ci Vengono Fatte Notare Alcune Cose Una Di S E Proprio La Presenza Necron Di Abbiamo Accennato Poco Fa Viene Proprio Citata La Presenza Di Necron Che Si Risvegliano Dalle Profondità Di Un Mondo Di Un Pianeta Presumibilmente Un Mondo Tomba E Questi Necron Che Semplicemente Si Svegliano E Vanno Eliminano Alcune Forze Imperiali Lì Presenti E Poi Si Assentano Andando Chissà Dove Non Ci Vengono Forniti Unteriori Dettagli Ma Comunque Ci Ricordiamo Che Anche I Necron Sono Lì Un'altra Cosettina Invece Che Ho Apprezzato Molto E Quella Per Cui Gli Imperiali In Questi Rapporti Che Sono Divisi Tra Vari Luoghi Vari Tempi In Uno Di Questi Rapporti Gli Imperiali Notano L'arrivo Di Una Flotta Eldar Appartenente All'Arcamondo Kinshara L'Arcamondo Kinshara È Un Arcamondo Che viene citato Solamente Riguardo Alla Lore Di Maugan Ra Maugan Ra In una Piccola Pubblicazione Del Monitorum Era stata Una Piccola Serie Di Ebook Disponibili Tramite Black Library Che Fornivano Piccolezze Di Lore Su Alcune Cosettine Alcune cose Tipo La Death Company Alcune Armi C'erano Piccoli Libretti Digitali Dedicati Magari Anche Alla Lore Di Un'arma E Una Di Queste Una Di Una Di Queste Piccole Pubblicazioni Del Monitorum Era Proprio Dedicata A Maugan Ra E Al Maugetar Il Suo Famoso Fucile Nella 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 storia Di Maugan Ra E del Suo Fucile Ci veniva Proprio Narrato Il Fatto Che Lui Avesse Trovato Il Più Famoso Il Più Grande Spettro Cantore Della Galassia Chiamato Kailet Tool Kailet Tool Era Proprio Uno Spettro Cantore Proveniente Dall'Arcamondo Kinshara Maugan Ra Lo rapì E Lo Costrinse Ad Insegnarli Il Modo Per Cantare Appunto Il Lo Spettrosso Per Manipolare Lo Spettrosso Con Il Canto Fondamentalmente Insegnarli L'arte Degli Spettrocantori Che Lui Poi Utilizzò Per Creare La Propria Arma Maugetar E Proprio Per Questo Mi È stato Curioso Alla fine Viene Nominato Solo Questa Volta Ma Anche Lì Sono Tutte Quelle Piccole Menzioni Che Dico Però Ve lo Siete Ricordati Sono Quelle Cosine Che Dico Potevate Mettere Che ne So Alight Potevate Ripetere Una Quinta Volta Saiman E Invece No Siete Andati A Pescare Proprio Quel Piccolo Arcamondo Nominato Una Volta In Una Cosettina Riguardante Un Personaggio Un Personaggio Importante Per Carità Ma È Una Cosettina E Kinshara Quindi Ha Una Flotta Lì Presente Chissà Se C'è Anche Questo Kaelet Tool Che Comunque È Stato Rapito Ma Dopo Aver Fatto Quello Per Cioè Maugarrano L'ha Ammazzato E Presumibilmente Tornato A Casa Sua Quindi Comunque Magari Era Presente Lì In Quella Flotta Altra Cosa Sempre In Queste Due Pagine Di Rapporto Appare Anche Una Mercante Corsara Che Era Già Apparsa Brevemente Nel Regolamento Di Non Edizione E Nel Supplemento Dei Blood Angels Di Nel Corso Del Supplemento Di Questa Campagna Narrativa E Alla Fine Ci Viene Mostrata Un Po' Un Suo Discorso Una Sua Illustrazione E Questo Discorso Viene Attribuito A Lei Ma Alla Fine Non È Nulla Di Così Tanto Importante E Questa Mercante Corsara Appare In Queste Pubblicazioni Per Fornire Qualche Qualche Citazione Qualche Quei Classici Spezzoni In Cui C'è Un Discorso Di Un Personaggio E Hanno Voluto Riprendere Una Mercante Corsara Già Apparsa In Altre Pubblicazioni Che Si Era Occupata Di Altre Questioni Che Comunque Riguardano Sono Sempre Abbastanza Vicine All'Ixeno Quindi Comunque Si Addiceva Un Po' La Comparsa Di Questa Mercante Corsara Ma Non C'è Chissà Quale Conseguenza Passiamo Arriviamo Quindi La seconda Parte È Più Di Carattere Narrazione Di Determinati Personaggi Mentre Quella Prima Era Appunto Più Reso Conte Di Guerra Visto Dall'esterno Qui Nella Seconda Parte Invece Andiamo A Approfondire E A Conoscere Personaggi Che Guidano La Narrazione Questi Personaggi Sono Vari Sono Vari Personaggi E I Due Secondo Me Importanti E Interessanti Sono Sicuramente Atocles Van Roth Che è un Inquisitore Anche qua E Varselia Mung Allora Ci sono Varie Specifiche Da fare Quest'inquisitora Van Roth Appare Perché Vuole Cercare Di Contrastare Gli orchi E i tiranidi Sfruttando Un dispositivo Questo Dispositivo È un Si chiama Corona Di Bad Crasha La Corona Di Bad Crasha È Un Artefatto Apparso Per la Prima Volta Nel Codex Death Watch Di Settima Edizione In Quel Codex Tra i Vari Eventi Descritti Tra le Vari Operazioni Raccontate Della Death Watch C'era Proprio La Death Watch Della Fortezza Occhio Di Octos Che Affrontò Gli orchi Del Re Mech Bad Crasha Il quale Possedeva Proprio Un Artefatto Questa Corona Che Era Capace Di Canalizzare Le Sue Energie Psioniche Per Letteramente Fare Piazza Pulita Di Un Bel Po Di Forme Di Vita Intorno A Lui La Death Watch In Quel Codex Riuscì A Ucciderlo A Decapitarlo E Letteralmente A Portarsi Via La Corona Con Ancora La Testa Attaccata Ad Essa E E' Finita Lì Ma Zona Di Guerra Octarius Marea Crescente Fa Riprendere Quella Cosa Torna Al Codex De Focce Di Settima Edizione E La Corona Diventa Un Oggetto Estremamente Importante Questo perché L'Inquisitore Van Roth Contatta La Death Watch Della Fortezza Occhio Di Octos Perché Vuole Sperimentare Sulla Corona Di Bed Crasha E Tentare Di Sfruttarla Contro I Tirannidi Ossia Vuole Cercare Di Sfruttare Le Energie Psioniche Che Questo Artefatto È Capace Di Canalizzare Per Distruggere Il Collegamento Sinaptico Di Tirannidi Questo Perché Appunto Il Re Mekbed Crasha Quando Utilizzava Questa Sua Corona Era Stato Visto Proprio Riuscire Non solo A uccidere Chiaramente Ma Anche Proprio A Disturbare E A Eliminare Il Collegamento Sinaptico Dei Tirannidi Van Rott Reputò Potenzialmente Molto Utile Questa Capacità E Ci viene Presentato Proprio Come Personaggio Che Vuole Sperimentare Su Questa Cosa Per Magari Utilizzarla Lui Stesso Chiaramente Un Inquisitore Radicale Dove Ci sia Bisogno Di Specificarlo In realtà L'Inquisitore Van Rott A questo Proposito Non contatta Solo La Defuci Dell'Occhio Di Octos Lui Vuole Creare Un'operazione Su Vasta Scala Perché Comunque Per Sperimentare Per Cercare Di Mettere In Atto Quello Che Vuole Ha Bisogno Di Varie Forze Che Nel Frattempo Lo Difendano E Che Forniscano Comunque Difesa Anche Da Comunque Forze Nemiche Che Lui Dovrà Le Corona Quindi Lui Va A Contattare Varie Forze Non Solo La Defuci Lo Aiuta E Manda Vari Kill Team In Suo Aiuto Ad Assisterlo Ci Sono Anche Varie Forze Di Vari Regimenti Di Astra Militarum Anche Di Militarum Tempestus Uno Di Essi Tra L'altro E Proprio Un Regimento Che Veniva Anche Qua Ripescato Dal Codex Militarum Tempestus Di Sesta Edizione Loro Erano Tutti In effetti Un Regimento Che Se l'era Vista Con Gli Orchi Su Un Pianeta Che Viene Pure Rinominato In Questa Campagna Narrativa E Quindi È Stata Un Po' Una Scelta Oculata Come Regimento Da Andare A Chiamare Inizia Ad Barcelia Moong Ragazzi Quando io ho letto Barcelia Moong Sono rimasto Abbastanza estrefatto Perché non me l'aspettavo Ai più capisco che Moong Non dica assolutamente Nulla Ma alle mie orecchie Invece dice Tantissimo Io sono Moong Anzi è un nome che Soprattutto con momenti BG54 Ho sentito molto Spesso Ragazzi La famiglia Moong È una Famiglia Di Saggi Di Mercanti Corsari Inquisitori Varie figure Di spicco In varie organizzazioni Dell'imperium Che sono Particolarmente Specializzate L'intera famiglia È particolarmente Specializzata Nello studiare Gli Xeno In particolare Gli Eldar Ma anche Gli altri Gli Eldar Sono un po' L'argomento Preferito Ma Studiano anche Altri Xeno Questa famiglia È apparsa Ad esempio Nel Codex Eldar Di terza edizione Vi mostro una cosa Nel Codex Eldar Di terza edizione C'era Questa Questa tabella Che Mostro ora qui Questa tabella Questa Pagina Era un'intera pagina Mostrava Varie rune Degli Eldar E mostrava Anche quelli Che poi Erano Le varie fazioni Le varie sottofazioni Della razza Degli Eldar Tutta questa pagina Non era qualcosa Di visto Con occhio esterno Assolutamente Anzi Tutte queste Descrizioni In realtà Erano state Qualcosa Di attribuito Proprio Alla famiglia Moong La famiglia Moong Per la precisione Obelius Moong Aveva studiato Questa Questa Tavola Dopo Averla Recuperata Dalle lune Di Paravax Luogo in cui Questa tavola Era stata Nascosta Da Da suo Zio Langstry Moong E quindi Già ci venivano Formate Delle parentele Oltre a questo O questo Obelius Era citato Come Pro Pro Nipote Di Eleusis Moong Eleusis È un uomo E Questa famiglia Non veniva citata Solo qua La sua famiglia Viene citata Anche in altre Pubblicazioni Solitamente Di terza edizione C'è anche Ad esempio Ralamin Moong Ralamin Moong Non abbiamo mai saputo Quale fosse la sua Parentela Nei confronti Degli altri personaggi Dei Moong Ma Ralamin Moong Era apparso Proprio In quelle Che erano Le disquisizioni Sulle antiche leggende Eldari E Necron Riguardanti La guerra Nei cieli Qualcosa che io appunto Ho usato tantissimo Nella mia narrazione Dei momenti BG54 Perché sono Informazioni Importantissime E interessantissime La famiglia Moong E quindi Qualcosa Di molto Particolare Curioso Perché Non sempre Nell'ambientazione Di Warhammer 40.000 Abbiamo questi Approfondimenti Su intere Famiglie Che non sono Magari Che ne so La casata Di navigator Comunque Intere fazioni Che generalmente Sono gestite In Famiglie Se parli di navigator Parlare O anche magari Di cavalieri imperiali Le famiglie Sono già qualcosa Di più comune Da sentir dire Quando invece Magari parli Di inquisitori O anche magari Appunto Mercanti corsari Figure che fanno parte Di organizzazioni diverse È raro Che si trovi Una situazione simile Come quella Della famiglia Moong Era qualcosa Di particolare Che comunque Da un bel po' Non si sentiva È praticamente Dalla quarta edizione Che non si sentiva Parlare dei Moong E guardate un po' Pam La zona di Guaroctarius Marea crescente Ripesca la famiglia Moong Donandoci Barselia Moong Barselia Moong Ci viene descritta Come una Xenosaggia E anche Mercante Corsara Che è la Pronipote Di Eulesis Eleusis Moong Attenzione Perché Obellius Era Pro pronipote Mentre Questa qui Questa Barselia Non ci viene Introdotta Come l'elemento Più giovane Perché il personaggio Più recente Bensì Come pronipote Quindi è un È venuta Prima Di Obellius Obellius potrebbe Essere il figlio Magari di questa Barselia Barselia Non lo sappiamo Non lo sappiamo L'unica parentela Che ci viene Fornita È quella Con Eleusis Certo Ricaviamo Bene o male Ricaviamo Le altre Però Non sappiamo Magari Che se Obellius Possa essere Nipote Di Barselia O figlio O Chissà Qua Chissà Cos'altro In ogni caso Barselia Viene chiamata Viene chiamata Da Van Roth Per partecipare A queste ricerche Poi direte Ma perché Se lei tanto Interessata Agli Eldari Perché comunque Per quanto Molto interessata Agli Eldari È comunque Una saggia Una esperta In generale Di Xeno Non solo Agli Eldari Agli Eldari Sono sicuramente L'argomento Di cui ne sa di più Ma degli altri Non vuol dire Che ne sappia niente Ehm Perciò La chiama E lì Inizia Quella La vera e propria Sperimentazione Il libro Continua a narrarci Questa storia Portandoci La sperimentazione Di questa corona Van Roth Assembla Tutte le proprie forze E ora Vuole cercare Di capire Se veramente Lui potrà Sfruttare Questo artefatto Contro i tiranidi Magari anche Contro gli orchi Però principalmente Contro i tiranidi Avendone visto Già gli effetti Lui Tenta Tenta E ritenta Ma purtroppo Non riesce Anzi Lui Riscontra Il fatto Che purtroppo Quella corona Non funziona A meno che Non sia collegata Alla testa Di un mech Nemmeno solo Di un orco Ma proprio Di un mech La cosa In realtà A un lettore Non deve Neve nemmeno Troppo stupire Perché chiaramente Stiamo parlando Di tecnologia Orchesca Tecnologia Che nelle mani Di un'altra Forma di vita Specialmente Dopo un bel po' Di tempo È pressoché Inutilizzabile Sappiamo Che la tecnologia Orchesca Funziona Attraverso L'influenza Psionica Degli orchi Gli orchi Creano appunto Un camp Una sorta di campo Intorno a loro Che fa funzionare Gli oggetti Loro tramite Le capacità innate Che possiedono Riescono a influenzare Gli oggetti Intorno a loro E cose Che generalmente Non potrebbero Mai Essere attivate In alcun modo Umano In alcun modo Coerente Funzionano Perché Loro hanno appunto Questa sorta di campo Psionico Quando Gli oggetti Non vengono più Sottoposti Al campo Psionico Per un po' Funzionano ancora Ma man mano Diventano sempre Più malfunzionanti Come dovrebbero essere Fino a raggiungere Proprio Il completo Non funzionamento Perché appunto Sono rottami E roba che a volte Ha un minimo senso Ma solo a volte Per questo motivo La corona Diventa ormai Praticamente Ferraglia Nel senso Sì forse Magari Farà qualche scintilla Ma Van Roth Riconosce Questa roba Non si riesce ad usare Ma non demorde Non demorde Perché lui ritiene Che questa cosa Questo oggetto Sarà importante Lui dice Io con questo Posso salvare L'umanità Perché se io riesco A utilizzare Questo oggetto A capirne il funzionamento E magari Riprodurlo Con dei prototipi Successivi Che la ricreino E Io possa creare Magari Dellerò Una riproduzione Su vasta scala Di queste corone Ragazzi Imperium Io posso Darvi modo Di contrastare Tirannidi Lui è molto Ambizioso È molto Ambizioso Però Sì Non sbagli Deve comunque Avere un minimo Di senso Sì 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 Non assolutamente Comunque deve avere Un minimo di senso Ciò che creano gli orchi Assolutamente Non è appunto Sì no Proprio un bastone Non diventa un fucile Non assolutamente No 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 Un minimo di senso Ce lo deve avere E Perciò Loro Tentano Tentano E ritentano Quelli che lo circondano Diciamo che Sono un po' Sul Eh vabbè Lo seguiamo Perché tanto Ha le sue idee E magari ci riesce Ma Probabilmente no E quindi Continuano A un certo punto La narrazione Si sposta Su un pianeta Un pianeta Su cui loro Stanno Ulteriormente Attirando Cioè Stanno ulteriormente Facendo Delle Delle Sperimentazioni Purtroppo Però A un certo punto Succede un problema Sorge un problema Una vasta quantità Di orchi Oltre ad altri Tirannidi Che stanno già arrivando Per conto loro Sta giungendo Il motivo Per cui questi orchi Si stanno avvicinando Non viene dato Dal fatto Che semplicemente Ci sono degli orchi Che girano In questa zona Proprio perché Loro si erano Assicurati Di non Di non Trovarli Perché loro Volevano Sperimentare Sugli effetti Della corona Sui tirannidi Loro non volevano Degli orchi In giro Purtroppo però Van Roth Si rende conto Che Semplicemente Le energie Emanate Dalla corona Mentre loro Tentano Di sperimentare Con essa Attirano Gli orchi E gli orchi Appunto Si presentano Nel luogo In cui loro Stanno sperimentando Loro Quindi Colti di sorpresa Cercano di trovare Una soluzione Cercano Di dire Ok Allora forse Dato che La sperimentazione Non può Molto continuare Potremmo fare Qualcos'altro Potremmo allora Cercare Di sconfiggerli Magari attirarli qua E appunto Tra intrappolarli Danneggiarli Cercano di fare Quello che possono E In tutto questo Tra l'altro C'è Barcellia Mung Che Oltre a fornire Assistenza A Van Roth Ha anche Dei suoi interessi Van Roth Le indica Una Una costruzione Che si chiama Heaven Spire Le Heaven Spire Sono Qualcos'altro Di risalente A un bel po' Di anni fa Le Heaven Spire Sono Una nave Che veniva Prodotta Da Forgeworld Per Battlefleet Gothic Per le flotte Degli Eldar Questa Questa base Perché non era Proprio una Verra e propria nave Era una base Orbitale Utilizzata In particolare Degli Outcast Degli Eldar Che si staccano Degli Arcamondi Dai Corsari Praticamente E Su questo pianeta C'è un Heaven Spire Schiantata Si è schiantata Un Heaven Spire E quindi Barselia Vuole un po' Studiarla Sì Più o meno Un Forte Stellare Più o meno Diciamo che L'idea È simile A quella Di un Forte Stellare Alla fine È una base Operativa Da cui appunto Loro Possono lanciare Degli attacchi E spostarsi Non è un incrociatore È più una base Il Forte Stellare È appunto Qualcosa che rende Abbastanza l'idea E appunto Dicevo È schiantato lì E Barselia Moong Ha I suoi interessi Per capire meglio Questa cosa E studiarla Purtroppo però Diciamo che L'arrivo degli Orchi Di tutte queste problematiche Rende un po' Difficile la cosa Allora Van Rott Mentre Elabora Tutto il suo piano Per intrappolare Quello Ammazzare l'altro E bene o male Vincere Include una cosa Lui vuole Far saltare In aria L'Even Spire Lui vorrebbe Entrare Dentro di essa Per Far Attivare Diciamo La sua autodistruzione In modo da Tirare I nemici lì E poi Pum Far saltare in aria Tutto Si presenta però Un'altra problematica Ovvero A un certo punto Van Rott E gli altri Incontrano Un'inquisitrice Sopravvissuta Inquisitrice Che veniva brevemente Nominata Qualche pagina prima Come un'inquisitrice Per cui Van Rott Provava una certa Antipatia Questa inquisitrice Richiedeva aiuto Ma lui diceva Non me ne frega nulla Io Ho affari più importanti Di cui occuparmi Quindi Non rispondere Alle sue chiamate Peccato che Lei la trova lì Ed è Letteralmente Trachitica Ormai Vedi proprio che Evidentemente Non mangia da giorni Non sanno nemmeno Cosa fare con lei Perché dicono Ma cosa diavolo Esatto Chi non prova Antipatia per gli inquisitori È andato inquisitori E non rovinato L'inquisizione Perciò Perciò Inizialmente C'è un battibecco Tra i due Anche perché L'inquisitrice Si presenta subito Con delle pretese Perché dice Dovete portarmi via di qua Questo e quell'altro Però Dopo un battibecco iniziale Si mettono d'accordo Perché l'inquisitrice Fornisce Delle informazioni utili Il piano Di far saltare in aria Così comodamente L'Eventspire Non è proprio Così tanto realizzabile Perché l'inquisitrice Avvisa Del fatto Che in realtà Ci siano ancora Degli Eldar Sopravvissuti Su questo pianeta Che ormai Si sono Praticamente Stabiliti lì Lì vicino A quel punto Van Roth E tutte Le sue forze Presenti Vanno Da questi Eldar Sopravvissuti La cosa tra l'altro È molto curiosa Proprio per la Death Watch Perché c'è uno spezzone Un riquadro In cui vediamo Proprio I membri Della Death Watch Che discutono Di questa cosa Discutono Dicendo Proprio Esprimendo i propri dubbi Nei confronti Di Van Roth Perché dicono Prima ci ha chiesto La corona Per utilizzarla Per sperimentare Né tanto ossessionato Da Da sto Da sto artefatto Xeno Già non ci piace Cercare di Utilizzare Far Retroingegneria Sulla tecnologia Xeno E adesso Ci chiede pure Di andare A incontrare Gli Eldar Per potenzialmente Collaborare Con loro Infatti Ce ne sono alcuni Che sono molto Eh no Questo è un po' troppo E altri Che dicono Ma calmiamo gli animi Capiamo che magari È una cosa Che appunto Genera i propri dubbi Lo si capisce Assolutamente Comprensibile Non si Asima Però Capite anche Che forse Tutto ciò Potrebbe davvero Darci Dei vantaggi Eh ma Fabio sbaglio La lama Xenofasica Non la usano Nemmeno tutti Dipende un po' Da che membro Della Defwatch Sei C'è quello Che è più Propenso E quelli Molto meno Dipende Dipende L'armamento Xeno È assolutamente Presente Nella Defwatch Assolutamente Però C'è chi Non lo vuole usare Quindi Si può usare Ma anche No Questi qua Sono un po' Più Gne Di per sé La corona La tenevano Ma La tenevano Chiusa Non volevano Usarla E qua Appunto Manifestano Poi loro Torgono Il naso Ma Il Watchmaster Cioè Watchcaptain Cerca di Calmare I volenti spiriti E farli Proseguire Nell'operazione Arrivano Quindi Da Da Yeldar E con La Effettivamente Stringono Un accordo E Riescono A tutti Gli effetti A Creare Un altro Sottopiano Per Potenzialmente Risolvere La situazione Comunque Grazie Mille Per avermi Fatto Compagnia Gordian Alla Prossima Detto Questo Si preparano Di nuovo A Mettere In atto Questo piano Un po' Rinnovato Un po' Cambiato E quindi Si dividono In due Gruppi In due Gruppi Da una Parte C'è Barcellia Moong Dall'altra C'è Van Roth Loro Devono Alla fine Riescono Ad accordarsi Sul fatto Di far Esplodere Di far Saltare In aria Leavenspire Ma C'è Un'altra Cosa Che Effettivamente Aveva Espresso L'inquisitrice Come Difficoltà Leavenspire È Comunque Qualcosa Di Difficile Da Esplorare Stiamo Pur Sempre Parlando Di Tecnologia Eldar E Quindi Appunto Si Dividono Due Gruppi Che Cercano Di Raggiungere Determinati Punti Leavenspire Gli Eldar Collaborano E In tutto Questo Dicono Anche Guardate Ovviamente Che Comunque Per Azionare Questa Cosa Che Volete Azionare Serve Un Eldar Con Un Forte Collegamento Pseonico Dal Proposito C'era Appunto Un Veggente Che Si Era Offerto Per Questa Cosa Però Comunque C'erano Varie Cose Da Considerare Bisognava Esplorare Leavenspire Trovare La Via Che Comunque Era Mezza Distrutta Ed E Poi Devi Aspettare Che Il Veggente Faccia Quello Che Deve Fare Perché Non Era Proprio Una Cosa Di Schiacciare Un Bottone Come Se Non Bastasse Nelle Rovine Ormai Pressoché Abbandonate Perché Si C'erano Degli Eldar Che Sano Stabiliti Ormai Lì Ma Leavenspire Era Bene o Male Un Rottame Abbandonato Al Su Interno I Legion Raptor Si erano Già Un po' Stabiliti All'interno E Si Presentano Ulteriori Problemi Purtroppo Van Rott Quando Arriva Insieme Ai propri Sopravvissuti Perché Comunque Ne Muoiono Ne Muoiono Davvero Tanti Di Quelli Che Entrano Nelle Spire Purtroppo Van Rott Quando Arriva Alla Console Di Comando Trova Varselya Moong Deceduta Dilagnata Il petto Aperto Mort Del Il suo Corpo Proprio Devastato Ed è Punto Stato Un po' Un dispiacere Vedere Barselya Moong Morire Così Presto Perché Mi Aveva Subito Acceso Il Oddio Però Purtroppo Muore Così Presto Chissà Se Vedremo In Futuro Qualche Altro Membro Della Famiglia Moong Soprattutto Dopo Aver Visto Magari Un Loro Membro Morire E Sapendo Che Comunque Ci sono Dei parenti Presumibilmente Ancora Vivi Chissà Magari Obelius O Proprio Eleusis Magari Come Cos'hanno Da dire Chissà Sarebbe Sarebbe bello Rivedere Anche Loro Magari Proprio Con Con Ruolo Più Narrativo Appunto Erano Apparsi Più Come Figure Che Erano Autori Di Certe Informazioni Presenti Nei Codex Sarebbe Bello Vederli Caratterizzati Come Veri Proprio Personaggi Varselia Per quanto Durata Poco Mi è Piaciuta Come Agente Che Comunque Mostra I propri Interessi Mostra Il Proprio Aiuto Nelle Comunicazioni Con Gli Eldari Quindi Per quanto La sua Durata Come Personaggio Sia Stata Breve Mi è Piaciuto Come È Stata Sfruttata Le sue Doti E I suoi Interessi Quella Sua Piccola Caratterizzazione È stata Comunque Valorizzata È stata Fatta Presente In Quelle Pagine Quindi L'ho Apprezzata Van Rott Riesce Poi Ad Attivare La Il Meccanismo Attivare Insieme Al Veggente L'Even Spire E Il Processo Di Autodistruzione Viene Attivato Tornano Indietro Si erano Pure Lasciati Un po' A modo Di Cammino Di Pollicino Modo Per Tornare E Tra l'altro Grazie Mille Mundo 85 Per Un Piacere Ascoltarmi Grazie Mille Tornano Indietro Van Rott Quando Giunge All'esterno Purtroppo Trova Uno Spettacolo Orribile Giorga I Tirannidi Ormai Sono Arrivati Stanno Facendo Un Casino Terribile Stanno Disseminando Morte Distruzione Su Questo Pianeta Tra Tirannidi Già Presenti Orchie Orchie Attirati Lì La Defo Sta Subendo enormi Perdite Come in realtà Tutti gli altri Presenti Van Rott Ormai Considera L'operazione Un fallimento E Non vuole Comunque Abbandonare La Corona Lui non vuole Abbandonarla E C'è anche un membro Della Defo Che Cerca di Portarla Via Cercando di Salvarla Ma purtroppo Arriva a un punto In cui si rende conto Che Non potrà mai Farcela Contro Tutto ciò Che è presente Su quel pianeta E Alla fine Van Rott Apre una comunicazione Con un Valkyrie Che se ne sta andando Quel Valkyrie Alla sua richiesta D'aiuto Con una comunicazione Un po' Frammentata Perché ci sono Già comunque Difficoltà di comunicazione Nel Vox Fa capire Che purtroppo Per loro È impossibile Scendere in sicurezza Per recuperarlo Van Rott Si lamenta pure Ma è inutile Che si lamenti Perché a tutti gli effetti È impossibile Quel Valkyrie Se ne va E va A Van Rott Purtroppo Non rimane altro Che osservare La fine Non solo Dell'operazione Non solo Del suo esercito Ma anche la sua E bom In realtà C'è ancora qualcosa In realtà C'è ancora qualcosa Questa è la fine Della seconda parte Un'operazione In cui purtroppo L'imperium Ha avuto Completamente La peggio Ha cercato Di fare qualcosa Era qualcosa Di molto ambizioso Molto interessante Se avesse avuto successo Ma purtroppo Non ce la fa Nel frattempo Abbiamo comunque Avuto una bella storia A concludere il tutto Diciamo la vera e propria Narrazione C'è un'ultima cosa Anche qui Andiamo a ripescare Una cosa Presente Raccontata In un'altra pubblicazione Per la precisione Il Codex Space Marine Del caos Di ottava edizione Il Codex Space Marine Del caos Di ottava edizione Veniva proprio Descritto Un evento Riguardante La zona di guerra Octarius In quel caso I divoratori di mondi Al comando Di Vodablad Price Combattevano Contro gli orchi E in quel caso Il Vodablad Price Riusciva A uccidere Un gran capoguerra E a sottrarne La sua grandascia Con tale grandascia Successivamente Si scontra Contro i tiranidi E In maniera incredibile Riesce ad uccidere Addirittura Uno ierofante A quel punto Vodablad Price Ascende a Principe Demone E questo era L'evento Che ci veniva raccontato Nel Codex di ottava Proprio in Quell'ultima pagina Di narrazione Post fine Di questa seconda parte Vodablad Price Viene ripreso Una pagina In narrazione In realtà due Sul fatto che Comunque Sono due pagine Che hanno un intero Grande artwork Dedicato ai divoratori Di mondi Sulla pagina A sinistra Ripeschiamo proprio Vodablad Price Ci viene Ridescritto Il fatto che lui Recentemente Fosse diventato Un principe demone E La narrazione Continua Dicendoci Che lui Insieme ai divoratori Di mondi Insieme a varie Bande da guerra Che lui ha radunato Dai divoratori di mondi Sta Si sta inoltrando In questi territori Di Octarius Recentemente Lui Ha notato Un Un pianeta Degli orchi Che loro chiamano Damo Le fauci La mascella Come si vuol tradurre Non è lungo Come pezzo Ma ci fa notare Che i divoratori Di mondi In questo caso Quelli comandati Da Vodablad Price Stanno agendo Stanno facendo Delle cose E stanno Combattendo In questa zona Di guerra Ora Io non so Non credo Saranno Particolarmente Presenti Nella seconda parte Non me lo aspetto Vedremo Però Sarebbe molto Interessante Se questo Fosse Un primo Indizio Del futuro Arrivo Di divoratori Di mondi Come Codex Assestante E modelli Sarebbe molto Bello Sappiamo che A un certo punto Arriveranno Questo è certo Ma Il loro Ritorno Così Perché alla fine Per bene o male Una pagina Di informazioni Scritte È stato abbastanza Curioso Mi è fatto piacere E Alla fine Il supplemento Proprio nelle ultime Pagine Di Parti Di lore Di background Va ad approfondire Alcune Varie Anzi Varie Forze in gioco All'interno del conflitto Alcune pagine Sono anche dedicate Ad alcuni Punto capitoli Di space marine Tra cui I jaguari D'ossidiana Citati prima Mentre ci vengono Descritte le forze E' stato E' stato anche lì Carino Leggere La presenza Le classiche liste Di reggimenti Capitoli Tutte le varie forze In gioco I vari ordini Di battaglia Sono sempre una cosa Che a me Fa piacere leggere E Tra tutte le forze In gioco Sono anche state citate Alcune forze Che non Apparivano Nei manuali Da un bel po' Di tempo Tra cui Reggimenti Di guardia Risalenti Anche lì Alla terza edizione O alcuni Alcuni cavalieri Freeblade Citati Nel codex Cavalieri imperiali Di settima Oddio Oppure Che cos'altro Abbiamo Veramente Un bel po' Di menzioni Tanta gente Apparsa In un bel po' Di manuali Nel corso Della storia Di codex Campagne E cose Quindi Hanno Coinvolto Un bel po' Di gente Nel caso Qualcuno Nel corso Degli anni Abbia creato Delle armate Delle forze Più o meno Grandi A tema Potrebbe far piacere Magari Di trovarle Lì In quest'ordine Di battaglia E E così Finisce La narrazione Io l'ho trovata Molto piacevole Perché Mi è piaciuto Vedere Questa Mescolanza Di stili No 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 Ancora Visionato Il secondo Volume Anche perché Esce domani Esce domani In No E in preorder Esce domani In negozi Vedrò appena Avrò modo Di visionarlo E Assolutamente Verrà un video Momento Review Come questo Che spero Vi stia piacendo Lo stile Quindi Dicevo Ho apprezzato Perché C'è stato Questa Mescolanza Tra Tra Di questo J. J. J.B.Z. A Crittman Che appunto Mette molta curiosità Su cosa potrebbe fare In futuro Questo personaggio Varie specifiche Su alcune forze In gioco Che vanno un po' Ad arricchire La lore Di alcune Forze Magari Apparse Precedentemente In alcuni Manuali O anche Sono nominate E poi Tanto Tanto Recupero Del passato Vado a riprendere Quel discorso Che ho detto Faccio dopo Ossia Recentemente Saranno appunto Diffusi Alcuni rumor Sul fatto Che Alcuni Membri Di Forgeworld Possero Stati Appositamente Spostati Nel Warhammer Studio Non solo Che collaborano Perché Collaborare Collaborano Anche Abbastanza Spesso Ma Proprio Lo spostamento Di alcuni Membri Precedentemente Del studio Forgeworld E Quei rumor Però parlavano Del fatto Che loro Avrebbero Collaborato Maggiormente Al progetto Di Warhammer Di Old World Io Però Devo dire Che recentemente Noto Una Una Giunta Una Maggiore Presenza Di informazioni Relative A Supplemente Manuali Pubblicati Da Forgeworld Nelle Pubblicazioni Invece Del Warhammer Studio Quelle Classiche Appunto Le campagne Narrative Di zone Di guerra Tutte Queste Qui E Sto Notando Ultimamente Un Maggiore Numero Di Questo Quell'altro Conflitto Questo E Quell'altro Mondo Che Solitamente Venivano Descritti O Comunque Anche Solo Citati Solo In Quei Manuali In Più Mi Piace Molto Questo Recupero Del Passato Nei Confronti Di Tante Informazioni Qua e Là Riguardanti Manuali Che Comunque Ho detto Per L'ottica Di Warhammer Sono Vecchi Cioè Manuali Che Comunque Risalgono Ai primi Anni 2000 Per L'ottica Di Warhammer È Un Manuale Vecchio Manuale Che Comunque Appartiene Già Molto Al Passato E Mi Ha Fatto Molto Piacere Vedere Tutto Questo Insieme A Una Bella Narrazione Esatto Io Sono Contento Che Ci Sia Questo Aumento Di Qualità L'avevo Già Notato Con La Prima Parte Di Zona Di Guerra Charadon E Ovviamente Vi Ribadisco Appena Avrò Modo Di Visionare La Seconda Parte Faremo Un Video Un Momento Review O Comunque Faremo Un Ma Con Questo Decisamente Si nota Assolutamente La Il Miglioramento Mi Fa Davvero Davvero Molto Piacere Davvero Molto Piacere E Una Un'ultima Piccola Chicca Che Ho Notato Le Regole Ragazzi Ovviamente Io Le Considero Poco Non Sono L'individuo Che A cui Vi Dovete Rivolgere Per Le Regole Però Ho Comunque Sempre Curiosità Di Comunque Tra le Regole Magari Le Reliquie Quelle Regole Che Comunque Hanno Quel Pochetto Di Lore Che Magari Comunque Interessante Da Leggere Infatti Infatti Ragazzi Questa Cosa Mi Ha Fatto Un Po Ridere Un Po Piangere Perché Tra Le Reliquie Della Guardia C'è Una Reliquia Di Baston Di Lucas Baston Purtroppo Purtroppo Lucas Baston Per chi Non lo Sapesse È un Personaggio Che era Apparso Nel Nel Codex Guardia Imperiale Di Quinta Edizione Personaggio Che però Purtroppo Non ha mai Ricevuto Un Modello E nel Codex Di Sesta Edizione Fu Già Eliminato Perché Alla fine È un Personaggio Che Non era Nemmeno Poi Così Utile Non lo Utilizzava Praticamente Nessuno E Davvero Pochi Credo Abbiano Speso Tempo Per Creare Un Modello Per Rappresentarlo La Reliquia È Di Lucas Baston Di Lucas Baston E Lucas Baston Però Alla fine Non ha mai Ricevuto Chissà Che Nuovi Sviluppi Di Trama Nel Senso Bom Era un Personaggio Apparso In quel Codex Poi Eliminato E Basta Così Invece Questa Campagna Ci mostra La Reliquia Spada Di Baston Spada Di Baston Che Nella Descrizione Va Purtroppo A Raccontarci La Tragica Fine Di Baston Che Purtroppo Perse La Vita Durante La Caduta Di Cadia Quindi È stato Un po' È stato Tanto Divertente Quanto Tragico Perché Dici Oddio Guarda Hanno Ripreso Baston Perché È morto E quindi La sua Spada È diventata Una Reliquia Utilizzabile Magari Sotto Forma Di Reliquia Sotto Forma Di Spada Baston Sarà Un Personaggio Maggiormente Considerato Chi lo sa E quindi È Sì 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 Si ricorda di te Così che tu non deva No ma è assolutamente E no L'ha persa Perché È morto È morto E quindi La spada Adesso È una Reliquia Utilizzata In generale Dalla Dalla Guardia La guardia La mantiene Come reliquia Comunque Utilizzata In battaglia Sì sì Però Purtroppo Lui Ormai Morto Morto Durante La caduta È Capita È morto Come tanti Altri Quindi ragazzi Questo è quanto Questo È stato Il primo Video Momenti Momento Review In live Questo È lo standard Di qualità Che voglio Mantenere Ovvero Si parla Di live Ma una live In cui comunque Io mi preparo Il materiale E riesco A raccontarvi A Descrivervi Tutto questo In maniera Molto efficiente Nick Dove posso Rivedere le vecchie live Ne ho un po' Da recuperare Allora Ci sono Sempre due modi Su Direttamente Qua su twitch Ma ci sono Sempre solo Quelle degli ultimi 60 giorni Degli ultimi Due mesi Dopo 60 giorni Twitch le cancello Automaticamente Tutte le altre Io le cancello Le carico Sul canale youtube Sul canale youtube Le trovi tutte Quello è la fonte Che reputo Principale Per le live Passate Io le carico Con costanza E Sono Sono lì E le puoi Le puoi riguardare Ma per sempre Lì non vengono Cancellate Se cerchi Il canale youtube Ti basta andare Nelle informazioni Del Del canale Qua sotto Da dove stai vedendo E c'è la lista Di tutti i posti In cui mi puoi trovare Tra cui anche Il canale youtube Per le Live ricaricate Questa informazione Che possa essere Utile A chiunque Vorrà poi guardare Successivamente Cose Da me prodotte Dicevo appunto Grazie mille Fabio Sbaile Per aver fornito Il link Appunto Questo è lo standard Di qualità Che voglio mantenere Che voglio fornirvi Con i video Momenti review Quindi appunto Non una Semplice Chiacchierata Ovvero Si Si discute Si discute Della cosa Che sto narrando Ma Un discorso Organizzato Con del materiale Preparato Tra magari Appunti Che io mi tengo Da parte Per informazioni Che magari Vi voglio Assolutamente Citare Di cui assolutamente Non mi voglio Dimenticare Magari In materiale visivo In questo caso Abbiamo visto Due immagini Che magari Vi hanno fornito Riferimento interessante Su quella che è Una base orbitale Degli Eldar E Un pezzo Di lore Degli Eldar Di terza edizione Che forniva Le prime informazioni Su dei personaggi Di cui qua Viene recuperata La famiglia Quindi è Spero abbiate Spero abbiate Apprezzato Io vi dico Questo Sarà D'ora in poi Il video Il momento review Io devo ancora Prendere una decisione Se i momenti review Di Broken Realms E quelli della seconda parte Di Octarius Sì scusatemi Di Charadon Saranno anche I loro video Momenti review In live Vi comunicherò Assolutamente In anticipo Come saranno Nel frattempo I prossimi Tra cui ovviamente Quello futuro Sulla seconda parte Di Octarius Saranno trattati In questo modo Faremo Un lungo discorso In cui Comunque Andremo a Approfondire Tutte le varie La storia Tutte le varie Chicche Tutte le varie Dettagli Pro Contro Dei vari Supplementi Questo Un po' Per comunque Venire Incontro A quello Che Sarà Man mano Il mio Tempo Disponibile Con Ovviamente Il sorgere Del lavoro Di revisore Per le Redizioni Dovendo Attaccare Un po' Tutto Adesso Bisogna Un pochettino Riorganizzare I tempi Però Voglio comunque Fornirvi Del contenuto Valido In Non voglio Forse Ah no Basti I momenti Review Non si fanno No Si fanno Comunque Ma magari Si fanno In un altro Formato Che magari Alcuni Apprezzano Pur di più E Può piacere Grazie mille DFX Van Una live Pazzesca Complimenti Grazie mille Apprezzo Molto Sono contento Che Che vi sia piaciuto Questo tipo Di contenuto E Ovviamente Verrà rifatto Con la seconda parte Di Octarius Appena Appena sarà Disponibile Ve lo Appena sarà Disponibile Mi sarà Disponibile La Lo leggerò E vi farò sapere Appena potrò Fare il momento Review Anche perché Ovviamente Non è che lo leggo E parliamo Devo fare quel Pochettino Ma anche solo Una giornata Di preparazione Per raccogliere Un po' tutto Il materiale Per parlarvene Al meglio Come ho fatto Questa sera A questo punto Ragazzi Grazie mille Per avermi Fatto compagnia Grazie mille Per essere stati Essere state Le prime cavie Di questo Di questo nuovo Format Dei momenti Review Grazie ancora A questo punto Ci rivediamo Il prossimo Martedì Con la solita Programmazione Delle live Per il resto Vi do un ultimo Annuncio Momenti BG54 Parte 5 La conclusione Di questo lungo Viaggio Di antichi Necrontyr La guerra Nei cieli Uscirà lunedì Alle 13 Su player.it Troverete lì Lo troverete anche Su tutti i social Tutti i vari link Ma su player.it Sarà disponibile Alle 13 E in prima pagina Come articolo Del giorno Per tutti voi La fine Di un viaggio Ma all'inizio Di un altro Lo vedrete Alla fine Buona cena Se non avete Ancora cenato E buona serata Ciao ciao